A Giulianova il tema del recupero dell'area dell'ex depuratore situata nel quartiere Annunziata è tornato al centro del dibattito politico con il consigliere comunale di opposizione Daniele di Massimo Antonio che ha acceso riflettori su alcuni aspetti critici del progetto. L'area oggetto di recenti cronache a seguito dello sgombero dei ragazzi del gruppo anarchico Campetto Occupato è ora destinata a una trasformazione significativa grazie a un finanziamento di oltre 1,5 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sì, non c'è ad oggi un progetto definitivo ed esecutivo nonostante la ditta appaltatrice un'azienda del Molise di Venafro avrebbe dovuto consegnarlo entro 90 giorni dalla data della firma del contratto dunque il 29 febbraio del 2024. Capite bene che entro il 29 maggio avrebbe dovuto consegnare questo progetto esecutivo. Il progetto esecutivo non c'è, non c'è stata la consegna dei lavori, non c'è stato nessun verbale non è stato approvato dall'Aggiunta per cui in teoria mancherebbe tutto quello che darebbe avvio a dei lavori. Il progetto prevede una radicale riqualificazione di oltre 13 mila metri quadri attualmente in stato di degrado. La zona interessata si trova in un'area strategica all'interno del Parco dell'Annunziata una delle più rilevanti dal punto di vista paesaggistico-ambientale della città. Ma a preoccupare i residenti di quella zona è anche il problema Ethernet presente sui fabbricati che dovranno essere demoliti. L'ordinanza di sgombero del nostro comune dunque diventa illegittima a questo punto senza considerare quello che ci siamo detti più volte che all'interno di quell'area vi erano delle coperture in Ethernet e era stata prevista la demolizione anche di quegli edifici che è stata interrotta grazie all'intervento dei ragazzi stessi del campetto occupato. Per cui tutto è avvenuto senza un piano operativo di sicurezza, senza un piano di demolizione nell'inadempienza totale di tutti quegli strumenti che avrebbero dovuto mettere in atto. Ecco, questo è molto grave. Tra l'altro c'è il rischio per la salute pubblica dei residenti, del quartiere annunziata e non solo e tutto ciò ci allarmano un poco. Si parla di ripristino della legalità, ebbene ripristiniamo innanzitutto la legalità istituzionale.